buonasera a tutti sono luigi un'era cosa perfetta bentornati su donna del combattro versione japp per questo giro abbiamo un ospite speciale alla mia destra a farmare su final fantasy breve exius un saluto buonasera ragazzi sono gini ilaria chiamata anche air patata direttamente da roma con furore ma passiamo all'argomento del video di oggi finalmente un po di tempo sono rilassato sul letto con la patata alla mia sinistra e parliamo dell'esa di due supertrunks anche perché oggi sono uscite informazioni su mageto sono uscite informazioni sulle peppi io sono indietro col farming sono tanto indietro col farming sono infinitamente indietro col farming devo ancora finì quella merda di gone kid col farming quindi ci sarà sarà una settimana lunga e stenuante tra tutto quanto ma per quale motivo pensate che ho fatto venire ilaria qua a bologna apposta per fare il farming quando ho altro da fare sei utilissimo amore sì sì sicuramente me lo immagino come direbbe pri pri volemose bene comunque partiamo da trunks fisico che dei due quello che meno mi convince però partendo da un presupposto sono due esa fantastici due esa di personaggi che non seguono un cavolo che finalmente sono diventati buoni cioè sono esa che porto full ability per farvi capire non sono come alcuni esa che li vedo vabbè li lascio perdere no questi sono esa davvero buoni allora ability free 13.882 hp 12.760 attacco e 7.847 di difesa leader globale 3 chi e 60 per cento ma non ci interessa passiva alla passiva originale di questo trunks era un 4 chi e 60 per cento attacco in inizio turno e disabilita la rigenerazione nell'evento di cell ora continuerà a togliere la rigenerazione ma non ci importa sempre quattro chi ma a 200 per cento attacco e difesa inizio turno e in più toglie la guardia nemica buona molto rapido molto semplice come personaggio il suo specialmente tre turni attacco e difesa del 50 per cento ora il pg è ottimo un pg ottimo riesce tranquillamente a tancare anche molto bene perché mi faccio partire dal presupposto che abbiamo detto che abbiamo 7.840 sodio 7.000 facciamo 8.000 rotondiamo di difesa in un team classico 4.5 vuol dire avere 32.000 che solo con la sua passiva diventa un buon 100.000 poco meno di 100.000 con possibilità di aumentare un ulteriore 1.5 quindi un bel 4.5 sui 32 no perso il conto arriva quasi a 160 170.000 di difesa si avere l'aria vicino non aiuta che succede si 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 prosegue ricorda di stati enti non sai di livello ne dicevo quindi abbiamo comunque dell'ottima difesa nel caso inoltre che faccia delle special aggiuntive può arrivare tranquillamente a 200.000 link skill golden warrior messenger from the future super saiyan royal lineage prefer for battle molto importante maxarlo in modo da avere quel 5% di fair soul vs source e fierce battle come team ne ha infiniti ma andremo ad analizzare una volta visto anche il prossimo tranks in quali team va a giocare perché dovrebbero avere esattamente gli stessi quindi intanto vale analizzare una volta più in sola è quello che mi piace di meno dei due è quello che mi piace di meno perché davvero molto classico è un 200 per cento fisso senza altro però è buono c'è differenza l'altro tranks che magari in rival potrebbe a un certo punto avere qualche problemino che in realtà non è vero questo qua tanta robina tanta robina inferiore all'altro però più che buono direi assolutamente più che buono affrontiamo adesso invece quello che mi piace di più come tranks ovvero l'STR allora mentre il tranks fisico è molto set forward pochi problemi passiva di una semplicità imbarazzante quella dell'STR naturalmente più in linea con le passive 2021 quindi 20.000 condizioni che fanno attivare cose diverse eccetera 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 allora partiamo anche qua dalle statistiche abbiamo 12.550 hp 13.388 attacco e 7.326 difesa praticamente abbiamo la stessa difesa dell'altro tranks leader anche qua 3 key e 7% tutti quanti passiva qua proprio gliel'hanno rifatta da zero originariamente era 70% attacco inizio turno quindi gliel'hanno riscritta da zero ed è diventata abbastanza lunghezza allora 100% attacco e difesa a inizio turno ok 50% attacco e difesa a inizio turno e 2 key all'inizio di ogni turno fino a un massimo di 4 key e 200% attacco e difesa quindi a partire dal turno 3 è identico al fisico lui ha bisogno di quel monoturno per caricare quel 50% di differenza ma in realtà al primo turno avrà stats più alti in quanto per 10 turni dall'inizio della battaglia avrà un ulteriore 100% di difesa quindi lui turno 1 parte con 250 per poi andare a 300 che in realtà è ottimale come cosa annulla la guardia nemica se avete un alleato che si chiama vegeta nel team e molto probabilmente salvo che non giochiate i briseian lo avrete ha alte possibilità quindi un 50% di stannare il nemico attaccato il che è ottimo sia in una futura road di Atene Devolution dove questo Trunks davvero sarà molto 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 utile sia eventualmente in generale in qualsiasi road anche vegeta family molto molto importante ora la sua special a differenza di quella dell'altro Trunks aumenta per un turno solo le stats e le aumenta del 30% questo cosa vuol dire? vuol dire che in totale post 10 turni avrà meno difesa di Trunks fisico e allo stesso tempo avrà meno difesa di Trunks fisico nel momento i tre stack difensivi si attueranno perché Trunks fisico può arrivare a un massimo di 350% di difesa appena si attivi il terzo stack lui può arrivare a un massimo di 330% è naturale che questo 330% comunque si raggiunge molto più velocemente un turno prima per l'esattezza ed è un 330% unito allo stun quindi difensivamente fuori dalla rival è meglio questo Trunks nella rival è meglio l'altro perché è molto più diretto e veloce Link stesso, Golden Warrior, Master of the Future, Super Saiyan, Dragon Age, Soul vs Soul, Profit Battle, Fierce Battle andiamo adesso a vedere le categorie naturalmente in entrambi i Trunks io preferisco buildarli full additional in modo da avere quella special aggiuntiva che mi può aumentare ulteriormente le stats e in entrambi i Trunks sono PG fantastici semplicemente l'utilità che questo Trunks ha in ROAD supera l'utilità che l'altro Trunks ha in Rival perché l'altro Trunks non ti dà damage reduction, non ti dà nulla di particolare in Rival questo Trunks in ROAD può salvarti la vita con lo stun allora categorie Ible Saiyan preferirete giocare l'altro Trunks in quanto è perfetto così, non ha bisogno di avere nessun PG particolare e parte col 200% Future Saga, questo Trunks potrebbe essere migliore in quanto abbiamo alcuni Vegeta Full Power, questo Trunks può essere migliore perché abbiamo alcuni Vegeta Time Travelers, l'STR, Vegeta Family l'STR, Super Saiyan l'STR Android Saga l'STR, Bond of Master e Disciple sinceramente non ricordo se ha dei Vegeta decenti Sì, meglio l'STR volendo perché ha l'Int Rapid Grow, Saviors, Evelyn Event sì, Evelyn Event ha il nuovo Super Vegeta e Saviors ha Vegeta ha Vegeta Super Saiyan 4 comunque io personalmente preferisco l'STR perché dà quel qualcosa in più in ROAD che il fisico non dà in Rival sono però più o meno allo stesso livello sono ottimi, ottimi PG naturalmente non dovete pullarci ma chiunque giochi da un po' di tempo ne avrà infinite copie e li potrà portare full ability spero potrei presto uno showcase con entrambi magari un... non so neanche io se portarvi... dove portarli perché... non è che sia facilissimo perché sono buoni a full ability però... oddio a full ability abbiamo comunque 10.000 di difesa per entrambi potrei provare a vedere un pochino come si comportano in Legendary Goku GT Event o in una vecchia ROAD vediamo un attimino dai per il resto io vi auguro una buona serata ci vediamo domani domani è il 10 quindi non è ancora uscito Magetta che esce il 12 vediamo un pochino con quale video probabilmente andiamo avanti con Rival o una ROAD fatemi sapere inoltre nei commenti qual è l'argomento del Battlefield di questo mese in modo che possa registrarlo e poi portarvelo per fine mese come al solito buona serata e buona estate grazie grazie grazie